Caprarica di Lecce L'accogliente centro storico di Caprarica di Lecce, con le sue strette stradine, è ricco di stupende, intime e accoglienti case a corte che risalgono al 18esimo anno. Le case a corte sono spesso dotate di un grande cortile semichiuso, sul quale si affaccia l'abitazione principale o più di una casa, condividendo il cortile come luogo comune di socializzazione tra le varie componenti della famiglia allargata. In alcune case a corte vi è la presenza dell'ortale, un altro elemento particolarmente affascinante di queste abitazioni. Esso era fondamentale per la coltivazione di quanto era necessario per il sostentamento della famiglia.